Con queste competizioni comunque la cosa importante è iniziare bene e oggi siamo usciti anche grazie alla stupenda cornice in cui giocavamo. Adesso comunque domani interessa subito al prossimo impegno a Firenze, insomma cercheremo di portare avanti quello che abbiamo cominciato. Sì, loro avevamo già incontrati in BNL e comunque sapevamo cosa andavamo incontro, infatti siamo partiti molto più concentrati, lì anche il contesto è un po' diverso, quindi comunque c'è stato qualche problema durante la partita, anche perché non è facile giocare la prima in casa, però alla fine è andata bene.